Salve a tutti, io sono Robirox e benvenuti nel mio canale. In questo video andrò a fare una comparazione audio tra Amplitube 5, Guitar Rig 6, Overloud THU e Bias FX2 relativamente alla simulazione di una testata Marshall JTM45. Nella prima parte di video utilizzerò la simulazione cabinet propria di ciascun software, mentre nella seconda parte utilizzerò per tutti quanti i plugin lo stesso identico Impulse Response. Buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!